Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, in questo video voglio mostrarvi la mia skin care del periodo qualche cosellina ogni tanto cambio, magari a volte non utilizzo la crema viso ma utilizzo un siero però diciamo che in linea generale ultimamente questi sono i prodotti che sto utilizzando che sono veramente pochissimi prima di lasciarvi al pezzettino di video dove utilizzo questi prodotti vi ricordo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere e adesso vi lascio al video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti